Salve a tutti, oggi vedremo come sostituire le lampadine di una Lancia Y da 2003 al 2011. Bene, ora con un cacciavite a croce svitiamo le due viti. Adesso sfiliamo il faro, prestando attenzione al connettore posteriore. Premere la linguetta di plastica e sfilare il connettore. Ora sganciare il portalampade dal faro con l'aiuto di un cacciavite. Quindi sfilarlo. Adesso controlliamo lo stato effettivo delle lampadine ed eventualmente provvediamo alla loro sostituzione. Per sostituirle non dobbiamo fare altro che ruotare leggermente la lampadina, quindi sfilarla via. Rimontiamo il portalampade. Adesso andiamo a riposizionare il faro, avendo l'accortezza di inserirlo nelle sue sedi. Una volta andato in sede, avvitiamo le due viti a croce. La sostituzione delle lampadine è terminata. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Grazie.